buongiorno ragazzi buongiorno buongiorno e bentrovati buon che giorno è oggi che non mi ricordo nemmeno che giorno è oggi buon mercoledì 4 dicembre ragazzi faccio questo video a seguito di una cosa che mi è successa mi sta succedendo da un paio di giorni a questa parte sono stato bombardato sto continuando attualmente a essere bombardato da falsi claim di copyright da parte di youtube su youtube sul canale youtube e troverete in iscrizione anche il video di come si chiama che non mi ricordo di red flame fox che ringrazio se giuseppe se giuse che lui giuse mi ha fatto vedere il video io poi ho capito come muovermi a seconda grazie a questo video ma l'ho voluto fare anch'io perché è meglio far commentare a conoscenza più persone di quello che sta succedendo a lui e anche a me ma scommetto anche a molti altri passo subito farvi vedere di cosa sto parlando però prima sigla ora ragazzi come potete vedere qui adesso vedete uno due tre quattro cinque sei sei nel nella giornata ieri cioè solo sei allora io ho già guardato queste cose qua e ho già visto il video di red flame for red flame fox troverete il link del suo video in descrizione però voglio farvi vedere un attimo esattamente cosa è successo allora prendiamo questo qua di senseia perché quello più che tanto visto che riguarda la stessa cosa che ha fatto che è successo a lui ma altre tre da parte sua mi sono arrivate a parte di questa persona qua vi faccio vedere un attimo c'è una contestazione però guardate gustavo canine games io ho scritto carmine per sbaglio una condizione ma si capisce costui ha fatto un video ok eccolo qua che questo qui costui costui in contesta non costui c'è non proprio lui ma la illustrata sound music che credo sia legata a questa persona non lo so non ho fatto i controlli e non mi interessa tra le altre tuttavia stazione qua mi è stata inviata stamattina e guardate in data 4 di 4 dicembre perché lui ha fatto dopo di me o prima di me non lo posso sapere dei gameplay sui cavaliere del zodiaco soldier soul vi ricordo che io l'ho preso l'ho portato praticamente al day one quindi sostanzialmente credo che i miei siano arrivati prima dei suoi appena disponibili su steam ovviamente non i gameplay su console e mi contesta qualcosa cosa non so assolutamente non lo so e non posso nemmeno farlo sentire per sicurezza perché sapete un po come questa tale gustavo canine games mi contesta in questi in questo video due volte che due volte e in altri due video mi contesta questo violazione di copyright io ho appena fatto una rivendicazione dicendo che i miei video rispecchiano il feri il ferius e che sono frutto di un mio gameplay e non di una copia non ho preso un gameplay suo l'ho messo sul mio canale e ho messo la mia faccia le mie che mi ha parlato che nel live c'è un gameplay live ragazzi un gameplay live di due anni fa cioè rendiamoci conto un gameplay live del 2017 è falso sicuramente è falso anche perché la stessa casa e se vi faccio vedere la stessa casa mia che mi aveva portato eccolo qua reclamo vedete illustrati sono music reclamo per watch dogs me l'ha tolta me l'ha tolto due ore dopo avermela presentata ok perché si accorta da sola della cazzata che ha fatto lo stesso dicassi su altre anche su questa qui dov'è mi sembra sia questa diamo un po' o era questa ora quella di 400 no questo è depolito garanzia quindi era quella di 400 probabilmente vediamo un po' eccola qua qua illustrati sono music guardate me l'ha rimossa poco dopo qualche ora dopo per cui sostanzialmente ragazzi credo che ci sia credo che ci siano un po di problemi ultimamente su youtube ben più di un po di problemi e che youtube farebbe meglio a investire in se stessa assumendo dell'altro personale fisico persone fisiche come me come posso essere io come potete essere voi ok che possa dare una mano al sistema automatico che utilizza per le viazioni di copyright e per i controlli secondo me farebbe molto bene molto me molto bene a investire in questo assumere altre x persone secondo me questo x si può testare tranquillamente intorno alle qualche migliaia di persone per far sì che ci sia qualcuno che fisicamente controlli queste cose qua perché non è possibile che mi arrivino le copyright inesistenti perché un conto è ok mi arriva da parte della capcom arriva da parte come come ha detto anche lì red flame fox mi arriva da parte della capcom della sony o di chiunque abbia creato quelle musiche mi è successo mi è successo per coprire gameplay di the walking dead e telte di game stories vi ricordate che per non avrei dovuto fare live per tre mesi poi avuto ragione io perché sono andato alla fonte di quelli che erano di vera alla proprio in testa ai al gruppo che mi aveva contestato il rumore della mazza della mazza della mazza da baseball del protagonista che fa il protagonista che protagonista fa quando la dà contro dentro al supermercato contro dentro alla servizio contro il uno zombie e le musiche di fine di fine diciamo quelle dei titoli di coda ok un conto sono loro cioè se loro mi avessero detto che ti contestiamo la monetizzazione la monetizziamo noi ok va bene sono d'accordo perfetto non ho problemi zero mai avuto problemi in questo senso ma quando si tratta di una persona esterna che utilizza un sistema di claim che esiste su youtube per sostanzialmente tra virgolette rubare monetizzazione ad altri contenuti simili ai suoi lo potrei fare anch'io vado a pescare quelli che hanno fatto i gameplay di due anni fa tre anni fa di quando iniziato anche a fare video e fare gameplay di for honor e dico sono miei perché perché io sono stato il primo in italia a portarlo stato il primo in italia a portare i gameplay di for honor su youtube e poi su triccia il primo sono stato è innegabile questo e di altri giochi sono dato uno di prima a portare più bene piano background va bene vado a claimare tutti gli a tutti quelli non si fa così ragazzi non funziona così io spero che youtube veramente ci pensi su questa cosa più che altro youtube google e che assuma molte più persone molte più personale per poter gestire queste cose qui è tutto ragazzi ringrazio per avermi seguito fate girare questo video e anche quello di red frame fox mi raccomando troverete il video in descrizione ciao a tutti